Si è spento a 71 anni, Emiliano Mondonico, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Da allenatore ha legato il suo nome alla Cremonese, che nel 1984 ha riportato in Serie A, dopo 54 anni. Al Torino, con cui ha conquistato la Coppa Italia nella stagione 92-93. All'Atalanta, che ha guidato fino alle semifinali di Coppa delle Coppe contro il Malines, nella stagione 87-88, e a tante altre squadre come l'Albino Leffe, il Napoli, il Cosenza, il Novara e la Fiorentina. Mondonico, era uno degli allenatori italiani più carismatici. Nato ha cresciuto a rivolta d'Ada, in provincia di Cremona, il 9 marzo 1947, da 7 anni. anni lottava con il cancro, che lui stesso chiamava, la bestia. Dopo l'intervento, era rientrato sulla panchina dell'Albino Leffe. Qualche mese fa, in un'intervista disse. Il cancro non è invincibile, il calcio, mi dà la forza per continuare a sfidarlo. Oggi, la figlia Clara ha scritto sul suo profilo. Ciao Papo, sei stato il nostro esempio e la nostra forza, ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu, eternamente tua. Ed in molti, su internet stanno salutando il grande allenatore. Sul profilo del Torino Calcio, c'è scritto. Ciao mondo, ci mancherai. Questo il breve ma intenso messaggio, all'ultimo allenatore della storia Granata, che ha alzato un trofeo al cielo. Grazie a tutti.